Nell'episodio 34 di Inazuma Eleven Orion, Liao farà notare al Misteri che Sonny è sparito e Bernard, il presidente della fondazione Orion, avviserà telefonicamente l'allenatore degli Inazuma Japan del fatto che il numero 8 sia diventato un membro di Orion di sua volontà. Bernard farà inoltre presente al suo assistente Shinjo Takuma che è il ragazzo ormai sotto il controllo di Orion e lo stesso Sonny si troverà privo di sensi sul lettino in una strana sala della fondazione. Il giorno dopo, al centro d'allenamento giapponese, i ragazzi si staranno chiedendo che Finn abbia fatto il loro amico, anche se il Misteri tranquillizzerà tutti dicendo che Sonny lo ha chiamato la sera scorsa e che non bisogna preoccuparsi, dal momento che è in compagnia di suo padre. Al centro arriverà però un nuovo membro della squadra, ovvero Sandra Fisher, il portiere della Raymond, vincitrice dello scorso Football Frontier, che ha anche portato dei macaron come legalo per i suoi amici. Sandra ha tagliato i suoi capelli perché così potrà giocare meglio ed è anche dimagrita. Tuttavia Hit sembra aver capito la verità legata a Sonny, da un momento che chiederà all'allenatore se quanto detto in precedenza corrisponda alla realtà dei fatti o meno, ma il Misteri dirà che non c'è bisogno di preoccuparsi. Dall'altra parte invece le preoccupazioni di Dave si faranno sempre più pressanti, da un momento che ora nella squadra sono presenti ben quattro portieri. In bagno però Byron noterà Axel farsi la doccia, ma un momento dopo lo vedrà camminare in corridoio. L'allenamento sta quindi per iniziare, al campo d'allenamento appunto è arrivato un ragazzo che verrà scambiato proprio per Axel. Il giocatore in questione non è alte che Basilardi, il numero 11 della Raymond, che da ora farà a sua volta parte dell'Inazuma Japan. L'aspetto di Basil è cambiato drasticamente, così come il suo carattere. Dave e Hayden sfideranno però il nuovo arrivato sul campo, in modo da dimostrare i progressi ottenuti da Basil, che dopo non essere stato scelto per rappresentare il Giappone, si è allenato duramente sulle montagne, fino a divenire un giocatore selvaggio. La sfida tra Basil e Dave allora inizia e il numero 19 riesce subito a portarsi verso la porta. Tuttavia lo stesso Basil, sprigionando alcune scintille, riuscirà a dimostrare il suo gioco selvaggio saltando il portiere e segnando la rete della vittoria. La seconda sfida tra Hayden, la mazza orse e Basil sta quindi per iniziare, e il nuovo acquisto della squadra racconterà ad avere effettivamente incontrato un orso durante il suo allenamento, il quale l'ha spinto oltre i suoi limiti facendolo diventare il dominatore della montagna. Una volta visto il last resort di Axel, allora Basil decise così di allenarsi ancora più a fondo, fino a quando non perse peso e ha così una nuova forza. Tanto da portare Valentin a pensare ad una sua ipotetica tecnica, il Beer Tornado. La sfida tra i due attaccanti allora inizia e come Dave, Hayden avanzerà verso la porta, venendo però fermato dal gioco selvaggio di Basil, che dopo aver recuperato la palla, tirerà e segnerà con il torrado di fuoco, vincendo anche questa sfida e facendo di credere a Valentin sul Beer Tornado. Basil è davvero cambiato, ma anche Sandra ha fatto dei progressi. La ragazza mostrerà infatti a Mark la sua nuova tecnica, con la quale riuscirà a proteggere la porta degli Inazuma Japan a dovere, mentre la frustrazione di Dave aumenterà vedendo le capacità del nuovo portiere della squadra. All'interno del centro di allenamento invece ci saranno Elliot e Ditt a provare il last resort, mentre lo stesso Basil dirà che a questo punto è l'unico che può provare a completare questa tecnica, per poi sprigionare un turbine facendo ruotare il pallone. Ma quanto è diventato forte! Nel prossimo episodio di Inazuma Eleven Orion, la partita tra l'Inazuma Japan e i Perfect Spark inizierà e i due novequisti della squadra giapponese si daranno da fare sì da subito. Ma qualcosa non va con i russi, che siano davvero... Per scoprire come andrà a finire, non perdetevi il prossimo riassunto in sintesi di... Lo splendido gioco di Froy! Che dire, questo episodio 34 di Inazuma Eleven Orion è andato esattamente come mi aspettavo. I ragazzi notano che Sonny non torna al centro di allenamento, vengono presentati i due nuovi giocatori e ci viene anche mostrata la potenza di Basil, dopo che si è allenato duramente. Non c'è che dire, è stata una bella puntata, che ovviamente ci proietta verso la prossima ed ultima partita del girone A contro i Perfect Spark, durante la quale Sonny non scendere in campo con i suoi compagni di squadra, chiaramente. Il ragazzo attualmente è trattenuto alla sede della fondazione Orion, dove con tutta probabilità gli verrà applicato il sigillo, in modo da poterlo controllare a loro piacimento. Parlando di Sandro e Basil, invece, abbiamo visto come la ragazza avviace in serbo una nuova tecnica, e anche come il gioco selvaggio del numero 21 si è letteralmente fuori di testa. Basil si è infatti trovato a che fare con un orso, prima di poter sviluppare la sua nuova forza, che onestamente trova pure essere eccessiva a momenti. Vedremo dunque quali nuove tecniche mostrerà durante la partita contro la Russia, che si prospetta essere non epica, ma di più. Inoltre abbiamo visto come Dave sia sempre più preoccupato del suo ruolo nella squadra. Dopo l'inclusione nella squadra di Sandra, come portiere può fare ben poco, quindi chissà, secondo me lo potremo vedere pure al centrocampo. Io comunque voglio ovviamente sapere la vostra qui sotto con un commento, vi piace il nuovo aspetto di Sandra e Basil? Cosa poi si attaccadrà durante la prossima partita? Come sempre vi invito a lasciare un mi piace per supportare il nostro canale, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e a condividere il riassunto con gli amici. Io inoltre vi ricordo che in descrizione trovate sempre il canale di Peppe, che mi aiuta in stacco con il riassunto, e anche in Azuma Corner, dove è uscita la mia reaction all'episodio in questione. Qui da Diego per oggi è davvero tutto, e giochiamo al calcio! Grazie per la visione!